Cosa ne pensi dell'iniziativa di codice internet? Una bella iniziativa, però... Boh, magari non... No, beh, una bella iniziativa, a me piace, ho usato tanto internet. Cosa usi di internet? MySpace, Facebook, usavo già finito a zero, poi... Ho un profilo mio, mostro le mie foto, i miei video, i miei montaggi... Però non ho mai avuto riscontro. In che senso? Eh, ho fatto un video che speravo venisse visto, magari qualcuno avesse fatto un commento, invece non ho mai avuto nessun commento, così... E secondo te perché è andata così? Perché nessuno l'ha mai vista, in realtà, secondo me, vedono, guardano le mie foto, ma poi non aprono tutti i miei video, e invece là c'è un video che... Comunque parlo del mondo, non parlo solo di me, parlo magari delle ingiustizie che ci sono nel mondo, se no, non ho mai guardato le mie foto. C'è qualcosa di internet che non sai e che vorresti che ti spiegassero? No, perché di tutto, per lo male ci sta sempre, sono una dipendente. Sei una dipendente di internet? Infatti, perciò che ho detto al professore, lei come fa? Dice che io già non dormo, io che lo uso tanto, non riesco a dormire la notte, lo immagino lui che lo uso tantissimo. Io fino alle quattro sono là, magari mi sviluppo di notte, ma lo faccio andare in internet, per vedere come... Ma lo uso anche per conoscere persone? Solitamente quando mi scrivo il sito parlo solo con le persone che conosco, non solo in mente, persone, magari amici di annuncia. Grazie.